Le sezioni unite della Corte di Cassazione ribaltano il criterio sulla base del quale viene stabilito l'assegno di divorzio e il tenore di vita goduto durante il matrimonio torna ad essere un parametro su cui quantificarne l'entità per il coniuge economicamente più debole. Sciogliendo un conflitto di giurisprudenza dopo la sentenza Grilli, che aveva escluso il parametro del tenore di vita, i giudici hanno dunque stabilito che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, un criterio composito che tenga cioè conto sia delle rispettive condizioni economico-patrimoniali ma anche del contributo fornito dall'ex coniuge al patrimonio comune personale in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età della vente diritto. Lo scioglimento del vincolo, scrivono i giudici, incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Pertanto l'adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare. Per i supremi giudici è necessario quindi pesare quanto ciascun membro della coppia abbia contribuito al compresso dei beni della famiglia e non solo da un punto di vista strettamente economico perché i parametri con cui verrà determinato l'importo dell'assegno dovranno fondarsi sui principi costituzionali di pari dignità e solidarietà.